ora sono in ginocchio guarda dalla porta vediamo se vedi dalla parte di là il campo ha detto un po perché la piena come ti dicevo è arrivata da da qui da dove c'è lo scurante e tutto questo penso qui qui è dove ho camminato io cercare di provare a levare più moto possibile ma è impossibile perché ho detto c'è nell'angolo laggiù c'è un metro di moto ecco tutto questo pezzo qua fino arrivare laggiù e non so non so come fare bo io credo che forse non si recupera neanche questo campo non lo so non ne ho idea mentre la parte laggiù dove ovviamente la volta non c'è arrivata ok scusa mi scivolo il telefono perché ho le mani tutte infancate è rimasta abbastanza vedere di qua sembra anche buona io ho provato ad andarci però ovviamente si vede l'elba su che non l'ha sommersa tutta ma c'è comunque due centimetri di melma anche in tutto il campo questo è